Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Mi chiamo Anouk e vengo dalla Groenlandia. Mi sono trasferita in Italia da poco e qua ho incontrato la mia migliore amica Valentina. Abbiamo deciso di fare uno spettacolo insieme e non vediamo l'ora di farvelo vedere. Uno spettacolo che parla della nostra amicizia, della mia terra e come ci divertiamo laggiù. Allora ci vediamo domenica pomeriggio a Centro Candiani di Mestre perché vi voglio fare sentire il mio gruppo preferito e giocare con voi. Ciao, a presto.